che prende la bordo e bocca xd un po' accaduto sparare ma ammazzato questo come ok per capire che tu costi fa ma distrutto con loro è una volta si 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 3 contro 2, non lo rianimare di tutti. E' la papà, ho richiami dopo, che non mi hanno fatto in tappa rispondere. Questo era lui eh. Oh no. Oh no. Oh no. muovi meno, muovi meno vabbè che se mi viene a rianellino io stavo giocando la play, non l'ho fatto in tempo è sempre là, chissà che devo fare